Salve, sono Urbano della Sani Moreno Volkswagen Audi di Fuscecchio. Oggi vi presento la nuova arrivata nel nostro parco vetture aziendali. Si tratta di questa bella Audi A3 Sportback allestimento business dell'anno 2020, precisamente del mese di dicembre. Quindi una vettura veramente, come si usa dire, giovane. E andiamo adesso a vedere alcune immagini della carrozzeria esterna che, come potete già ben vedere, si presenta in un modo eccellente, praticamente pari al nuovo. Di questo bel colore particolare è un bianco metallizzato. Andiamo adesso a fare una carrellata degli accessori della nostra vettura. E partiamo con i nostri sensori di parcheggio posteriori, sensori anche di parcheggio anteriori. Cerchi lega da 16 pollici, gli interruttori dei quattro vetri elettrici e l'interruttore per la regolazione elettrica degli specchietti posteriori. Sulla console centrale abbiamo tutti gli interruttori per regolare le nostre funzioni. Partendo dall'interruttore del menu completo e sul display centrale ci viene tutti i richiami di tutte le nostre funzioni, come potete ben vedere. Possiamo avere il navigatore, il suo originale, la posizione del Bluetooth per abbinare il nostro cellulare per le chiamate, l'autoradio, tutti i criteri di impostazione del navigatore, le impostazioni della vettura. Bellissimo questa cosa. Il display centrale può essere anche a scomparsa con il suo interruttore, se ci dà senoia nella guida lo possiamo abbassare. Abbiamo il nostro cambio manuale a 6 marce, la messa in moto cosiddetta comfort, freno a mano elettronico, climatizzatore automatico bizona dove possiamo differenziare la nostra temperatura, sedili anteriori riscaldabili, volante rivestito in pelle multifunzione dove abbiamo tutti i nostri interruttori per comandare come sempre le nostre funzioni. Abbiamo anche l'interruttore per il comando vocale, molto importante per non staccare mai le mani dal volante. Cruise control e passiamo al chilometraggio solamente 7.283 chilometri. Interruttore della regolazione della zona lombare, sensore per la luminosità e sensore per la pioggia. Passiamo anche adesso a vedere la nostra tappezzeria che è tra l'altro molto molto bella come potete vedere. Non ci sono strappi, non ci sono usure, non ci sono buchi di sigarette anche perché il precedente utilizzatore non fumava. Questa tappezzeria è stata come il nostro solito lavata ed igienizzata a vapore con questa lavorazione specifica. Infatti il risultato della nostra lavorazione è proprio avere un interno vettura pulitissimo, profumato e quindi molto molto accogliente. Andiamo adesso anche a vedere il nostro valutore. Bellissimo, accogliente per la manutenzione con tutti i suoi componenti al loro posto, dalle plastiche, tubettine in gomma, spinette elettriche. Anche perché le nostre vetture, prima di essere messe in vendita, vengono sottoposte ad un accurato controllo. Come? Sono praticamente, abbiamo, come? Seguendo una nostra checklist multicontrollo interna e sono praticamente 110 punti da verificare singolarmente affinché la vettura sia completamente funzionante e quindi affidabilissima. Questa vettura in particolare è una delle nostre selezionate Audi prima scelta PUS che è una garanzia Audi di 4 anni o 150.000 km 4 anni a partire dal momento della consegna. Possibilità anche di pagamenti rateali personalizzati nel caso ce ne fosse bisogno che vi saranno spiegati in serie. A questo punto vi invitiamo a visitare il nostro sito diretto autosani.it dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla nostra vettura. Seguiteci poi sui social facebook e instagram al nostro indirizzo sanimoreno srl e un grazie per l'attenzione. Vi aspettiamo comunque presso il nostro punto vendita di fucecchio naturalmente in tutta sicurezza oppure potete già telefonare ai nostri numeri telefonici vi sarà comunque risposto a tutte le vostre domande. Un grazie ancora e come diciamo sempre alla prossima vettura! Grazie a tutti!